C'è anche Ruvo di Puglia fra i 10 centri storici più visitati in Puglia durante gli Open Days a luglio. La cittadina ai piedi della Murgia primeggia fra le località preferite dai turisti nell'ambito dell'iniziativa dell'Agenzia Regionale del Turismo Puglia Promozione che ha garantito aperture straordinarie di 250 beni culturali in tutta la regione coinvolgendo 104 comuni. Una strategia promozionale molto apprezzata dai turisti che hanno fatto registrare circa 40.000 presenze nei siti inseriti nell'iniziativa. Porte aperte, visite guidate gratuite per i tre luoghi pugliesi patrimonio dell'umanità, Castel del Monte, I Trulli di Alberobello e Monte Sant'Angelo ma anche in castelli, musei, aree archeologiche, cattedrali, dimore storiche e teatri sparsi in tutta la Puglia. Oltre a Ruvo tra i 10 centri storici scelti dai visitatori ci sono Monte Sant'Angelo, Bovino, Mola di Bari, Noci, La Terza, Oria, Palmariggi, Castro e Specchia. Il centro storico ruvese dimostra quindi di poter competere con città che possono vantare tradizioni turistiche ben più consolidate fornendo un importante esempio anche agli altri comuni del nord barese. Importante anche la risposta in termini di accoglienza che molto ha contribuito a far salire in graduatoria della città nelle preferenze dei turisti.